Il rene policistico è una malattia ereditaria. Ne esistono due forme, una forma autosomico dominante, molto frequente, che presenta un'incidenza 1 su 600 nati, e una forma autosomico recessiva, molto più rara. Noi ci occupiamo della forma autosomica dominante. La manifestazione principale è la formazione di cisti in entrambi i reni. Le cisti sono dei piccoli palloncini ripieni di fluido che si formano a livello del nefrone, che è la struttura filtrante del nostro rene, quindi che filtra il nostro sangue e lo ripulisce dell'impurità. Questi palloncini continuano a crescere per numero e per dimensione durante la vita dell'individuo, fino a causare perdita di funzionalità del rene. Ci sono altre manifestazioni che includono la formazione di cisti nel fegato, manifestazioni cardiovascolari, a volte che molto severe, con aneurismi, anche intracranici, ipertensione, una serie di altre manifestazioni, per cui si dice che è una patologia di tipo sistemico, perché colpisce tanti organi. La diagnosi del rene policistico si basa sulla presenza di criteri clinici nelle forme dominanti di una storia familiare positiva e ci si avvale di uno strumento molto importante sia nella prevenzione della malattia che nell'evoluzione, che è l'ecografia. L'ecografia permette di evidenziare la presenza di cisti e di poterle monitorare nel tempo. I cisti infatti nel momento in cui si ingrossano possono provocare un danno a livello renale e quindi l'evoluzione poi verso l'insufficienza renale cronica e la necessità quindi di una dialisi e di un trapianto renale. Per quanto riguarda la ricerca del nostro laboratorio cerchiamo di concentrarci su due aspetti. Il primo capire che cosa succede nelle cisti che causa la loro espansione, perché poter trattare nel paziente, poter limitare la crescita di queste cisti sarebbe sufficiente a rallentare il decorso della patologia. Una seconda linea di ricerca che a mio avviso potrebbe essere più promettente è volta a capire perché si forma una ciste, quindi che cos'è che scatena l'inizio di questa manifestazione. Mentre la ricerca di base continua a cercare di capire più in dettaglio che cosa fanno i geni coinvolti nella malattia, al tempo stesso si iniziano a raccogliere i primi frutti di queste ricerche di base e le prime molecole che potrebbero portare dei benefici al paziente sono in fase di test clinico. Ce ne sono diverse, ancora non conosciamo l'esito, bisogna sempre essere estremamente cauti e non dare false speranze, però diciamo che è un momento di grande ottimismo per questa patologia perché stiamo facendo degli avanzamenti abbastanza importanti.